Non sei riuscito a concludere nulla Non sei riuscito a farti rispettare Non sei riuscito a non fare cazzate Non sei riuscito mai a cambiare Non sei riuscito a non vomitare Non sei riuscito perché non ti applichi Non sei riuscito a finire gli studi Non sei riuscito a diventare qualcuno Non sei riuscito a non fare cazzate Non sei riuscito a non fare cazzate Non sei riuscito a non fare cazzate Musica di riuscire a pisare Nel cacipo se Bacchia, bacchia Bacchia, bacchia Bacchia, bacchia Bacchia, bacchia Bacchia, bacchia Bacchia, bacchia Non sei riuscito a cogliere l'occasione Non sei riuscito a sfoltare Non sei riuscito a farmi stare meglio Non sei riuscito a fare come tutti gli altri Non sei riuscito a darci un taglio Non sei riuscito ad essere puntuale Non sei riuscito a farmi venire Non sei riuscito Bastardo Non siete riusciti a pisare Un'increzione emozionale Non siete riusciti a pisare 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 Non va bene di qua, non va bene di là, non si capiscono le parole, quando fai così sei troppo commerciale, quando fai cos'ha non si capisce un caso, e mi sembri mia madre. E questa era Benzina Ugoshi ragazzi, è la forza di questa canzone, mi raccomando voglio sapere che avete distrutto tutto, e niente ragazzi, voi pensate di esservi applicati e quindi siete riusciti, oppure non vi siete applicati e non siete riusciti a fare niente, quindi anche voi siete tra i falliti, no sto scherzando ragazzi. Bene, il nostro programma, la nostra prima puntata, voglio ricordarlo, della nuova stagione di Singers Life, Sounds Good Radio Roma Futura, termina qui, oggi abbiamo parlato dei Subsonica. Vi ricordo che il nostro appuntamento orientativamente è sempre lo stesso, voglio ricordarlo, ogni mercoledì dalle ore 17. Voglio anche ricordare che stasera ci sarà Alberto Polinori, dialogando con Latino America, che fa un viaggio attraverso i paesi latinoamericani, raccontando le canzoni di ogni paese. Credo che l'orario forse sia più tardi però, perché stasera c'è la partita della Roma, la prima partita di stasera della Champions. Per chi è romanista spero che vi dica bene, che vi devo dire ragazzi, guardatela perché stasera sarà in chiaro in diretta su Canale 5. E niente, vi saluto, un ringraziamento sempre al nostro fonico Lorenzo Loddo, a tutto lo staff di Sounds Good Radio Roma Futura, a presto, un abbraccio forte, Tiziana. Logo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.